E' stato trasferito dal carcere di Voghera a quello fiorentino di Sollicciano, Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta, condannato in primo grado lo scorso 4 giugno a quattro anni di carcere per maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna Marta Bisello, per intralcio alla giustizia e per aver tentato di far pressioni sui figli affinché facessero ritrattare la madre. L'avvenuto trasferimento nel penitenziario toscano è stato confermato dal suo avvocato Luca Brioli. In una lettera a Lanza, Maniero afferma di essere stato fatto uscire dalla cella di isolamento e salire su un'auto senza sapere dove era diretto. Un trattamento così anomalo e anche fuori legge, secondo Felice Maniero, sarebbe dovuto alle critiche sulla gestione dell'emergenza Covid nel carcere di Voghera da parte sua, uscite sui giornali. Critiche nei confronti dei vertici che è tornato a reiterare parlando di minacce e di ritorzioni nei confronti degli agenti penitenziari perché non portassero le mascherine per non creare allarme sociale tra i detenuti. Per ora, ha giunto l'ex boss della mala del Brenta, c'è stato il primo detenuto in Italia morto prematuramente proprio a Voghera con atroci dolori. Non vorrei, stessero insabbiando tutto, ha concluso. Sarebbe troppo.